Sono Alessandro Mantovani, somiglio professionista e sono qui per presentarvi il decanterino di Carlo Benati e il contenuto della sua confezione. Qui abbiamo dei vetri soffiati a murano, una fiaschetta, una calla, un contenitore delle sfere, un sacchettino che servirà per il lavaggio e poi le sfere distillatrici. Abbiamo tre sfere lisce e poi tre sfere invece sfaccettate. Per utilizzare il decanterino incomincieremo col prendere la fiaschetta dall'interno della confezione, successivamente prenderemo la calla, una sfera distillatrice che andremo a mettere all'interno della calla. La calla va inserita all'interno della fiaschetta e successivamente prenderemo le sfere e le verseremo con attenzione all'interno della calla. Il procedimento va fatto in questo ordine prima la sfera distillatrice e successivamente le piccole microsfere. Molto importante è che la sfera distillatrice andrà a bloccare le altre microsfere. Abbiamo delle sfere lisce e delle sfere sfaccettate. La differenza consiste solo nel tempo in cui il vino passa dalla calla alla fiaschetta. Le sfere lisce porteranno a un flusso di circa 12 minuti, le sfere sfaccettate invece è di circa 4 minuti. E adesso serviamo il vino. Grazie a tutti. Adesso andiamo a versare il vino nei bicchieri. Prendiamo la calla, l'adagiamo momentaneamente all'interno del collo della bottiglia di vino e poi si serve normalmente. molto importante è poi riprendere la calla e adagiarla all'interno della fiaschetta. l'interno del collo della bottiglia di vino. l'interno del collo della bottiglia di vino. l'interno del collo della bottiglia di vino.